Ciao! Oggi vedremo insieme un'altra maglia del campionato inglese, del Leicester, per la stagione 2022-2023. La maglia di casa in edizione fan. E di chi? Se non di Vardy. La maglia di casa Adidas Leicester City 2022-2023 è disponibile nella consueta tonalità di blu del club, caratterizzata da una fase solida senza grafica. Come abbiamo visto con alcune altre squadre di seconda fascia, sponsorizzate da Adidas, viene utilizzato un modello standard con colletto bianco. Le strisce Adidas sulle spalle appagliano in bianco, proprio come i loghi degli sponsor. Tuttavia, lo stemma del Leicester e il logo Adidas hanno una colorazione in oro. Adidas, da quando produce le maglie del Leicester, non ha mai fatto a meno del colore oro in qualche dettaglio. La struttura in morbido tessuto anti-umidità AeroReady assicura il massimo comfort. Wow! Devo dire, molto bella. Nella mia classifica non spicca, prende solo tre stelle, però devo dire che è fatta veramente bene. Le rifiniture sono giuste. Poi mi piace molto questo abbinamento blu-bianco. semplice, perché comunque è una maglia tintunita, però veramente, veramente bella. Vi ricordo, qui in alto, vedete il costo, veramente molto basso. La spedizione, peraltro, è molto veloce. E in descrizione, qui in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Troverete, peraltro, un sito pronto a soddisfare ogni vostra richiesta. Adesso, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete le misure, vi prego di lasciarci un like e di iscrivervi al canale per farci crescere, per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto, 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao! 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 Grazie a tutti.